Per la serie squadra che vince non si cambia ma si migliora, lei è la nuova generazione della Skoda Kodiaq che cambia soltanto dove serve. È nuova nel design e nuova nei contenuti ma conserva quegli elementi che hanno decretato il successo della prima generazione del modello soprattutto qui sul mercato italiano. Adesso in questo video vi racconto come è fatta e come va su strada ma prima come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina. Le proporzioni sono quelle della generazione uscente ma a cambiare e molto anche è il design ora a partire qui dalla parte anteriore dove le forme sono molto più bombate rispetto alla generazione uscente, crescono nelle dimensioni anche i gruppi ottici anche se continuano a mantenere il loro sviluppo su due livelli per cui come potete vedere c'è una parte che si sviluppa qui nella parte bassa e una più grande qui nella parte alta ma la cosa interessante è che ora ci sono anche i matrix led di seconda generazione. Che cosa significa? Significa che sono fari molto più evoluti, c'è una quantità di pixel all'interno di ogni singolo faro superiore rispetto alla generazione precedente, questo permette di disegnare un fascio di luce sulla strada decisamente migliore e più efficace dal punto di vista luminoso rispetto alla generazione uscente. La calandra è stata rivista, ha una forma leggermente diversa, va sempre ad unire i due gruppi ottici ma ora ha una trama leggermente diversa mentre lì nella parte bassa si sviluppa questa unica grande apertura esattamente come avviene ormai su tutte le skoda attualmente alistino, questo è di fatto il più recente linguaggio stilistico del costruttore boemo. Grande attenzione poi è stata rivolta all'aerodinamica rispetto alla serie precedente, lo si nota soprattutto da queste aperture qui, vedete? Si riesce a vedere parte della fiancata, qui l'aria viene incanalata per essere poi portata nella zona degli archiruota dove come sappiamo si generano sempre grandi turbolenze. Molto pulita la fiancata che rimane pressoché identica se non nella parte posteriore dove trova sviluppo questo montante tutto nuovo con questo inserto in un colore diverso che stacca un po' con il resto della carrozzeria che è sicuramente molto interessante. Così come interessante anche la parte posteriore della vettura che cambia profondamente soprattutto per quelli che sono i gruppi ottici che ora come potete vedere hanno una firma luminosa doppia che si sdoppia qui a forma quasi DC e poi si vanno ad unire grazie a questo lungo segmento sopra il quale trova parte, trova posto come ormai da tradizione il lettering Skoda. Per il resto le modifiche negli esterni sono molto contenute soprattutto nella parte posteriore dove cambia poi la parte bassa del diffusore a una finitura diversa. Nuovi sono i disegni per i cerchi in lega e in parte anche le tinte disponibili per la carrozzeria. Adesso a questo punto salto a bordo così vi faccio vedere anche un pochino come sono cambiati gli interni. Voglio cominciare la disamina degli interni cominciando dal vano di carico perché qui si concentrano gli elementi secondo me più interessanti di questo modello. Adesso apriamo la cappelliera così riuscite a vedere un po' meglio. Grandissimo e tantissimo lo spazio qui a bordo si tratta di 910 litri in configurazione così come la vedete adesso a cinque posti che arrivano fino a 2105 litri per la variante appunto a cinque posti. Se si sceglie invece come in questo caso la variante a sette posti con i sette posti in posizione si ha comunque a disposizione un vano di carico di 340 litri più o meno in questa zona qui quindi che non sono assolutamente pochi se considerate che sono di fatto più o meno la capacità di carico di una tradizionale vettura di segmento B. Tante le soluzioni Simply Clever presenti su questa Skoda Kodiaq non sto a elencarle di nuovo tutte ma ormai le conosciamo benissimo dall'ombrello all'interno della portiera potete vedere qui nella parte anteriore non manca mai eccolo qui ho il raschio a ghiaccio dall'altra parte dove abbiamo il bocchettone per la ricarica per il rifornimento del carburante ma la cosa interessante è che ora come potete vedere qui è stampigliato questo piccolo QR code se voi lo inquadrate con la telecamera del vostro smartphone vi dà accesso a tutta una serie di contenuti realizzati da Skoda per spiegarvi come sfruttare al massimo la capacità di carico di questa Skoda Kodiaq una soluzione molto molto interessante mi sposto qui nella parte posteriore molto velocemente per farvi vedere anche quello che è lo spazio disponibile per chi siede dietro tanti centimetri disponibili tanto per le gambe quanto per la testa guardate il sedile anteriore posizionato sulla mia altezza circa un metro e 77 e qui dietro guardate ci sono tantissimi centimetri di spazio una valanga poi per la testa per cui qui dentro si viaggia davvero super super comodi passiamo alla zona anteriore salgo anche qui per farvi vedere come è cambiata a bordo perché qui le differenze sono veramente veramente tante allora metto in moto così riuscite a vederla meglio vado un pochino indietro cambia tantissimo la plancia perché come potete vedere ora uno sviluppo diverso sempre sul piano orizzontale ma con un andamento un po diverso rispetto alla prima generazione l'impatto qui è sicuramente non solo di maggiore modernità rispetto alla serie precedente ma anche e soprattutto di maggiore qualità qualità che viene percepita non soltanto dalla scelta dei vari rivestimenti e dei vari inserti ma anche di quelli che sono i contenuti proprio di questa vettura per cui dal punto di vista tecnologico un sistema di infotainment aggiornato di ultimissima generazione molto più facile da da gestire anche quando si è al volante tramite questa interfaccia touchscreen da ben 13 pollici 10,25 pollici invece per il quadro strumenti posizionato lì dietro che è una grafica ampiamente personalizzabile cosa interessante che come potete vedere la leva del cambio è stata posizionata qui sul piantone dello sterzo questo ha permesso di andare a aprire molto di più quello che è lo spazio disponibile qui sul tunnel centrale di conseguenza si è ricavato spazio per ben due piastre di ricarica raffreddate per i cellulari peraltro qui la ricarica viene a 15 watt per cui si ricarica anche piuttosto velocemente qualche nuova soluzione simply clever è rappresentata da questo che è un piccolo oggetto di un materiale sembra scamosciato ecco diciamo così che vi permette di andare a pulire lo schermo dalle ditate che inevitabilmente vanno a crearsi sullo schermo quando lo utilizzate poi lui al suo pratico alloggio qui ma tra le soluzioni simply clever molto interessanti che ora hanno anche un risvolto tecnologico troviamo lo smart dial che è di fatto questa che è la zona che solitamente è proposta alle funzioni del climatizzatore qui abbiamo sì tutte le funzioni del clima per cui di qua possiamo come potete vedere regolare la temperatura all'interno dell'abitacolo su tre zone perché è un dispositivo trizona per cui di qua lato sinistro lato destro e poi dietro per i sedili posteriori c'è un comando dedicato in più se vado a premere vedete posso andare a regolare l'intensità del riscaldamento del sedile stesso vale per il passeggero la cosa interessante è lo strumento qui centrale che permette in questa posizione di andare a regolare l'intensità della ventola se lo premete invece andate a modificare la posizione in cui verrà verrà immessa aria all'interno dell'abitacolo e ancora così potete andare ad intervenire sul volume dell'impianto radio una soluzione molto pratica che permette quindi di avere sotto controllo in un unico comando diverse funzioni voglio spendere prima di mettermi al volante ancora due parole sugli interni di questa skoda kodiac perché sono molto interessanti i materiali utilizzati perché al di là di tutto quello che è il discorso legato al ai materiali riciclati che oggi sono estremamente importanti per tutto il discorso legato ad argomentazioni bio e green sempre molto importanti attuali in skoda hanno fatto una cosa molto interessante che va ben oltre il semplice materiale di riciclo di recupero loro non per questi sedili nella fattispecie ma per quelli in pelle per la verniciatura dei sedili in pelle recuperano gli scarti del caffè hanno scoperto che recuperando gli scarti del caffè peraltro il caffè consumato in tutte in tutti gli stabilimenti di skoda si riesce a ricavare materiale sufficiente per colorare le pelli dei rivestimenti in pelle appunto per le nuove scoda è una soluzione sicuramente molto interessante e curiosa per cui insomma volevo spendere due parole anche su questo vi dico due cose anche sulla gamma motori per farlo scendo e apro e forse devo farlo due volte la gamma motori una gamma motori che rimane fedele a quella che è la tradizione del modello per cui sotto il cofano in questo caso troviamo un propulsore di due litri a quattro cilindri è il ormai mitico intramontabile tdi che qui è nella variante da 150 cavalli per quanto concerne la mia prova ma a disposizione c'è anche una versione da 193 cavalli con l'abbinato alla trazione integrale tutta la gamma è ora abbinata di serie al cambio automatico a doppia frizione sette rapporti in più abbiamo al di là dei diesel anche un benzina molto interessante un mild hybrid 1500 da 150 cavalli al quale si somma poi un altro 1500 ma abbinato ad un sistema plugin molto interessante perché è stato aggiornato rispetto alla precedente serie 204 cavalli di potenza di sistema che grazie a una batteria da poco più di 27 kilowatt ora permette a questa kodiak di fare circa un centinaio di chilometri in modalità completamente elettrica in più plus interessante la plugin può essere ricaricata anche fast fino a 40 kilowatt reali come ammesso da skoda che è molto precisa su queste cose per cui sarebbero 50 ma loro ammettono che si arriva fino a 40 detto un po della gamma a questo punto chiudo il cofano e sono pronto a mettermi al volante per raccontarvi anche come va su strada allora a questo punto vediamo anche un po come si comporta su strada questa nuova generazione della skoda kodiak la seconda nella storia del modello che come abbiamo visto cambia molto dal punto di vista dell'estetica così come dei contenuti mentre devo dire che dopo qualche chilometro al volante di questa nuova kodiak si confermano quelle che sono le doti già espresse dal modello nel corso della sua prima fase di vita con la prima generazione nella fattispecie io sto guidando uno dei propulsori che forse trovano la loro massima espressione proprio su questa vettura ovvero il 2000 tdi a gasolio quindi da 150 cavalli un propulsore molto interessante perché per quanto sia legato ad una storia ormai molto lunga all'interno non solo della gamma skoda ma dell'intero gruppo Volkswagen nel corso degli anni è stato aggiornato più e più volte e oggi assicura un livello di efficienza davvero davvero notevole i consumi adesso sono da prendere un po con le pinze perché naturalmente ho guidato ancora insomma troppo poco nel corso di questo primo contatto con con la vettura devo rimandare tutto ad un test più approfondito che sicuramente faremo più avanti ma devo dire che la media comunque è molto buona e si attesta intorno a una media di circa 7 litri e mezzo per 100 chilometri che considerando quelle che sono le dimensioni e la stazza che si porta dietro questa vettura è un risultato davvero di tutto rispetto dal punto di vista dinamico invece di cose da dire ce ne sono poche rispetto alla prima generazione perché come vi dicevo in realtà qui ci si è evoluti nel segno della continuità la piattaforma è sempre è sempre la mqb evo una piattaforma super collodata anche questa che con quest'ultimo aggiornamento in realtà permette di poter contare su una suite di adas molto più evoluta molto più tecnologica per cui oggi questa vettura soprattutto in un contesto autostradale che è un po l'habitat naturale di questa vettura trovano il loro terreno di battaglia ideale perché sono davvero tarati a puntino non sono mai invadenti come potevano essere quelli di prima generazione ora banalmente il centraggio all'interno della della corsia è molto più preciso rispetto al passato per cui si guida anche in maniera molto più confortevole comfort che qui passa anche attraverso un ottimo livello di insonorizzazione nonostante il motore a gasolio lì davanti congenitamente un po rumoroso qui la voce del 2 litri entra all'interno dell'abitacolo soltanto quando andiamo a premere con forza sul pedale dell'acceleratore si sente un pochino che con il salire di giri aumenta anche la voce del propulsore presente qui all'interno dell'abitacolo buone nel complesso le prestazioni 150 cavalli sono giusti devo dire per una vettura come questa certo se si cercano le prestazioni allora forse qualche cavallo in più non dispiacerebbe ma ad ogni modo una potenza così relativamente contenuta permette comunque di avere di contro dei consumi molto buoni soprattutto anche grazie al fatto che qui abbiamo un cambio automatico tarato davvero molto bene per cui i passaggi di marcia tanto per cominciare sono assolutamente impercettibili e questo permette ancora una volta di poter contare su un comfort di marcia di assoluto livello ma anche molto veloci per cui questo sicuramente aiuta a non perdere neanche un briciolo di quella che è la potenza che è in grado di sviluppare questo propulsore dal punto di vista dinamico invece anche qui all'anteriore lavora un tradizionale schema mac person mentre dietro troviamo un multi link che assicura un comportamento dinamico sincero pulito molto progressivo nelle reazioni per cui nel complesso devo dire che questa nuova generazione della kodia che si guida davvero molto molto bene proprio piacevole da utilizzare tanto in contesti autostradali ma anche su strade come queste un po ricche di curve dove sicuramente pur non andando a cercare la performance pura che non è assolutamente nell'altura di questa vettura lei comunque risponde con un comportamento comunque sempre piacevole molto coinvolgente per cui invoglia a macinare chilometri su chilometri e anche se non è assolutamente l'attura di questa vettura che non è assolutamente l'attura di un